Musica Bentornati, un nuovo appuntamento con la stanza di vetro, grazie per essere con noi qui su Clivo Ospite della giornata è Lapo Cantini, buongiorno Lapo Svegliamolo subito, noi ci eravamo dati un appuntamento qualche settimana fa Però lo abbiamo dovuto rimandare perché è successo qualcosa alla tua vita professionale Sì, praticamente c'è stato questo cambio, o mai lo sanno tutti perché è uscito sia sui giornali che sui social C'è stato questo cambio in corsa e quindi da qualche giorno sono il nuovo responsabile generale Confericente di Città di Firenze e quindi ho lasciato l'Eppolesi Valdezza nelle mani del bravissimo Gianluca D'Alessio Che faceva l'assessore al commercio a Castelfentino e sta provando questa nuova esperienza Quindi un cambio in corsa che ci ha un po' rallentato nel fissare questo appuntamento Però ci tenevo a esserci non solo per l'amicizia con Clivo ma anche con quella con Chiorazzo Grazie, congratulazioni per il nuovo incarico, di che si tratta intanto? Ma praticamente sarò, diciamo, il responsabile della città Quindi dovrò seguire l'associazione dalla A alla Z Confericente di Firenze è la prima realtà italiana dei confericenti Oltre 6.000 associati, date certifiate in questi giorni dalla Camera di Commercio Quindi è una realtà importantissima, in cui c'è da fare molto Quindi lavoro anche operativo ma anche di rappresentanza, politico Per sostenere i nostri associati, per sostenere le piccole imprese in centro della città Quindi ecco, sono molto contento e spero di fare del mio meglio E questo incarico arriva dopo 8 anni di impegno qui sull'Empolese Valdelsa? Sì, 8 anni, diciamo 7 e mezzo Perché io ho cominciato nel novembre 2011 Quindi un periodo abbastanza lungo Però sono molto contento, è stata una bellissima esperienza Ho fatto il mio meglio, penso anche di aver dato un certo contributo Allo sviluppo del territorio delle piccole imprese Una bellissima esperienza, a parte il profilo professionale Ma anche dal punto di vista, diciamo, delle relazioni interpersonali Delle relazioni umane, ho conosciuto tantissime persone Ho avuto un rapporto diretto con gli imprenditori Un rapporto diretto con gli amministratori, con i sindaci Quindi questo effettivamente è un motivo di soddisfazione Si può dire che questo è ancora un territorio molto importante In cui si lavora bene Sull'aspetto interpersonale, magari ci torniamo dopo Mi preme chiederti come sta il commercio in questo periodo storico Allora, diciamo che il commercio cerca di resistere È chiaro che rispetto a 7-8 anni fa è cambiato tutto È cambiato tantissimo 7-8 anni fa non c'era il commercio elettronico Non c'era Amazon, non c'era meno grande distribuzione Non c'erano gli outlet Quindi ormai è diventata un'offerta molto frammentata C'è di tutto, c'è sempre più promozione È sempre meno prezzo fisso Quindi è un mercato diciamo molto difficile C'è il grande turnover di imprese Una volta non metteva sull'attività Ci passava 30-40 anni della propria vita professionale Adesso magari l'età media di 6 mesi, un anno Quindi si rischia anche di farsi del male Se non si è abbastanza preparati Di buttare via i soldi Quindi bisogna essere molto culati Prima di avviare l'attività professionale E farsi assistere naturalmente anche dell'associazione L'ategoria, permettetemi lo spot Però effettivamente è vero Giusto, visto che il tuo poi è un compito politico All'interno del commercio è proprio questo Cioè indicare le strade migliori per ottenere i migliori successi Sì, sicuramente Poi oggi rispetto a una volta Non c'è meno l'obbligo della formazione Quindi uno può prendere la prima attività Dall'oggi al domani, 24 ore Quindi effettivamente se non hai un sostegno Se non hai chi ti sostiene Chi ti dà una mano Chi ti consiglia Chi ti mette a disposizione gli strumenti migliori Per fare impresa Rai veramente i rischi di farti male E di fare male magari anche ai tuoi familiari Perché spesso è bene che anche Si presentano tanti giovani Che magari hanno un sostegno da parte dei genitori Che magari sono in pensione Hanno preso il TFR E poi magari questo TFR viene pulverizzato Perché magari si sbaglia Avventura in periodo reale Quindi diventa a volte spesso anche un dramma familiare Per evitare questo bisogna avere appunto Supporto dei professionisti Che ti possono consigliare ed orientare Questo è il suggerimento che noi diamo sempre Tu hai detto che il commercio è cambiato Ovviamente siamo davanti al commercio elettronico Si sta comodamente seduti a casa Si possono fare gli acquisti che si vogliono anche dall'altro capo Del mondo Però vediamo che comunque C'è chi apre bottega sotto casa Qual è il consiglio principale Che daresti a un giovane O comunque a una persona Che si sta avviando in questo percorso? Passualmente oggi paga comunque Il commercio di qualità Cioè se te devi fare un'attività Che è concorrenziale Rispetto alla grande distribuzione Un concorrenziale rispetto al commercio elettronico Non ce la puoi fare Se te invece riesci a fare Un progetto imprenditoriale Che si basa sulla qualità E sul rapporto diciamo diretto Con il cliente Allora probabilmente puoi avere anche Delle possibilità di successo Abbiamo tante storie professionali Per esempio nel settore alimentare Nel settore dei pubblici ricizi In cui effettivamente Si è riusciti a fare cose qualità E anche cose innovative Allora in cui caso lì I clienti e il mercato ti premiano Soprattutto nel settore alimentare Ci sono diciamo Nuove opportunità Perché ormai anche la spesa Viene fatta diciamo nel supermercato Ma non più come una volta Non c'è più diciamo La spesa settimanale In cui uno si riempiva Il casello della spesa Oggi i consumi sono molto più orientati Si vuole molto più la qualità C'è il biologico C'è diciamo La ricerca del prodotto Di un certo tipo Spesso non si ha tempo Per andare alla grande distribuzione Perché magari si lavora molto Oppure se è anziani Si sta in casa Perché poi c'è anche L'imbecchiamento della popolazione Ecco in questi casi Un'attività di vicinato Che fa un servizio importante Alla clientela Magari portando anche la spesa A casa Come spesso sta succedendo In questi casi si possono avere Anche storie imprenditoriali di successo È successo E succederà sicuramente Dicevi la qualità Ma prima di entrare in trasmissione Mi parlavi anche del fatto Che ci sono i centri commerciali naturali Che possono essere Uno strumento di lotta Nei confronti Sia della grande distribuzione Sia anche del nuovo tipo di commercio Quello elettronico Sì sicuramente Allora noi abbiamo inventato Il centro commerciale naturale A Empoli tra l'altro Nei primi anni 90 Poi chiaramente Questo strumento Si è molto sviluppato Si è molto evoluto E oggi penso La sua evoluzione massima L'abbiamo sempre a Empoli Con il centro commerciale naturale Del centro storico Che ha fatto delle cose Mirabili Nell'ultimo anno Basta pensare a Natale O al sistema Nelle notte bianche Praticamente lì Sono forme di aggregazione Di impresa Che si mettono insieme Che realizzano dei progetti di vicinato Dei progetti di sviluppo territoriale Di marketing territoriale E questa cosa effettivamente Se ben organizzata Con imprenditori Che ci credono Veramente può essere Antidoro alla grande distribuzione Mi dicevi che a Firenze Sono addirittura 50 I centri commerciali naturali A Firenze sono 50 Praticamente uno per strada Uno per strada Perché effettivamente Anche lì Il commercio vicinato Allora nel centro storico Va bene Perché c'è un turismo forte Eccetera eccetera Però nei quartieri Ci sono situazioni molto vicine Anche a quelle Del territorio circostante Quindi una situazione Anche di sofferenza Si è risposto in questo modo C'è organizzandosi Nei centri commerciali naturali Facendo aggregazioni Di quartiere Aggregazioni di imprese E facendo tante iniziative In questo modo Siamo riusciti a mantenere Abbastanza vivo Il commercio vicinato Anche una città come Firenze Che non è semplice Che è completamente accerchiato Da grandi centri commerciali Compreso anche Barberino Compreso i gigli Che sono in realtà Insomma importantissime Per la grande distribuzione Qualità aggregazione Però probabilmente Serve anche il supporto Delle norme Delle leggi Tu qualche settimana fa Hai lanciato Un grido d'allarme Partendo dal fatto Che quest'anno Il mese di maggio È stato un mese Maltrattato dal maltempo E hai pensato subito Al fatto che Essendo fermo Il commercio In quel periodo I saldi Per come sono strutturati Adesso Potrebbero essere Un problema Un ostacolo No Assolutamente Il mese di maggio È stato un mese terribile Ma comunque Non è stato Un accidente Della storia Nel senso Ormai negli ultimi anni Questo problema Del metro Lo abbiamo sempre di più Non ci sono più Le messe stagioni Come si dice Solitamente Ma è vero Ma in questo caso è vero È vero E abbiamo i saldi Troppo ravvicinati Rispetto all'andamento Della stagione Perché a gennaio I saldi 5 gennaio A luglio Il prossimo 6 luglio Effettivamente È troppo ravvicinato Abbiamo avuto maggio Molto freddo e piovoso Si è venduto pochissimo Nell'abbigliamento Chiaramente Se tu proponi i saldi Il 6 luglio La gente aspetta il 6 luglio Quindi compra A questo punto a saldo Quindi noi abbiamo Già chiesto Su questo posticipo Dei saldi Il problema È però molto complesso Perché decide Non solo la regione toscana Ma la conferenza Stato regione Quindi regioni Tanto le date Le decide la regione Decide la regione Però dopo aver sentito Anche le altre due regioni Centrali Perché altrimenti Ci sarebbe il turismo Del saldo Cioè in Liguria Per esempio Si potrebbe fare saldi prima E quindi Da Bassada Potrebbe andare a Salzana E si creano Effettivamente Queste situazioni Di distorsione Del mercato Quindi noi Se lo abbiamo chiesto Anche in questi giorni Il problema È che i tempi tecnici Non so se ci consentiranno Di fare un posticipo Per un momento I saldi rimangono Il 6 luglio Però effettivamente È una data troppo Avvicinata Rispetto alle esigenze Di stagione Il tuo passaggio Da Empoli A Firenze È avvenuto All'indomani Delle elezioni Amministrative Quindi la campagna elettorale Tu l'hai vissuta Nell'Empolese Intanto Hai fatto notare una cosa Che dalle urne Sono usciti Dei responsi positivi Per tutte le persone Che erano impegnate Nel commercio Nei 5 anni precedenti Faccio l'esempio Di Empoli Con Antonio Ponzo Pellegrini Che è stato Nella lista In cui si presentava L'uomo che ha ottenuto Più preferenze Ma è successo così Anche a Vinci È successo così Anche a Castelfiorentino Sì ci sono stati grandi esploi Anche Cettaldo Per esempio Arrigoni Ha preso Tantissime preferenze Infatti Poi ha acquisito Anche una posizione Di rilievo Nella giunta Lo stesso sindaco Di Montesperto Di Montesperto Era vice sindaco Ma aveva la delega Al commercio A Vinci La Sala di Lorenzi Infatti è diventato Vice sindaco Perché è stata campione Di preferenze E vuol dire Che probabilmente Si è lavorato bene Cioè gli assessori Al commercio L'ha lavorato bene Io posso anche dire Che noi ci siamo Dato mano A lavorare bene Perché siamo stati comunque Un terminale importante Per loro Anche il nostro gruppo Presente Assolutamente lo è stato E poi Il commercio Se fatto bene Può essere una grande vetrina Può essere un'occasione Di grande invisibilità Ma c'è anche Dove esce la medaglia Se fatto male Può essere anche Utilione su giornale Attaccato dai commercianti Quindi vuol dire Che qui L'hanno lavorato bene E quindi gli elettori L'hanno giustamente premiato Quindi io Non posso complimentarmi Con loro Con cui ho avuto rapporto Molto bello Molto intenso Anche negli ultimi cinque anni In questi anni passati A Empoli Qual è il momento Che ricordi Con maggiore piacere? Assolutamente Io ho fatto un percorso E poi Diciamo Si è concluso Positivamente Con il Natale Con il Natale di Empoli Effettivamente A di là Della bellezza Della cosa Abbiamo messo in campo Uno sforzo collettivo Incommensurabile C'è anche la soddisfazione Di aver iniziato Un percorso Anche insieme Alla Brenda Penso l'elemento più Di soddisfazione Si è stato questo Cioè di aver dovesciato Completamente In una situazione In cinque anni Che possono essere tanti Ma possono essere anche Pochi Non tanto la manifestazione Il suo successo Quanto il successo Ad aver coinvolto Proprio gli operatori Si diciamo Come ci si è arrivati Poi Il Natale è stato bellissimo Mi è piaciuto a tutti Agli empolesi A cittadini I residenti Però ecco Come ci si è arrivati a quello Abbiamo messo insieme Le persone E averli fatti lavorare Attorno a un progetto Cosa cinque anni prima Non era assolutamente scontata E' stata penso La cosa più bella Che abbiamo fatto In questi anni E invece c'è un momento Che vorresti proprio cancellare Una giornata brutta Un evento brutto Ma giornate brutte C'è stai tanti Questo Cioè Ci sono Nel nostro lavoro Ci sono giornate belle E giornate brutte Perché poi Ci sono anche Momenti Di rifioltà Momenti di ansia Per dire Quando si fanno Le manifestazioni Magari queste sono cose Che non ci si pensa mai Ma quando tu hai Delle manifestazioni importanti Come l'Empolissima Che sono 150 operatori Con meccanismi di surezza Se ti appare L'alertamento il giorno prima Ecco Ti prende male E' successo purtroppo Qualche volte E' successo E' successo E poi Anche l'anno scorso C'era l'altamento Che si fa Che si fa Facciamo A fuori Gli ambulanti E si annulla Quindi tutti vanno a casa Tutti si incavolano Tu prendi Che ti sei alzato La mattina Vitari Che si può capire Una cosa Ci vuole Le persone Che sanno farla funzionare Questo meccanismo Di critica All'establishment Alla casta Che per un po' di anni Ha anche Mettuto consensi Poi alla fine Ci porta Nelle situazioni In cui noi siamo A livello nazionale Cioè Mentre da una parte Abbiamo l'operenza I sindaci E le elezioni Ha dimostrato Che questa competenza Viene premiata Tra l'altro Spesso Al governo nazionale Abbiamo invece Problemi Che derivano appunto Dall'aver messo Nelle poste chiave Di comando Persone Non avevano Nessun tipo di esperienza Nessun tipo di competenza A me è per colpa loro Ma perché purtroppo A un certo punto Si è pensato Che chi c'era prima Che faceva parte Dell'establishment Aveva fatto i danni Quindi tanto valeva Provare cose nuove Ecco Ora si è provato Mi sembra di poter dire Che Non si poteva fare Samente meglio Parliamo un po' Di criticità Voi Durante il percorso Che ha portato Alla nomina Dei nuovi sindaci Nei comuni L'Empolese Valdelsa Avete avuto Molti incontri Con le persone Che rappresentano Le istituzioni Avete fatto anche Un manifesto Programmatico Con alcuni punti E lo avete presentato Ai sindaci Qual è la criticità Principale Di questo territorio Quella che frena Allo sviluppo Diciamo ora si sta Un po' Rimediando Si rimedirà Però il problema Principale Non si è avuto In questi anni È quello Delle infrastrutture Questo riguarda L'Empolese Valdelsa Ma si parlava prima Di andare in onda Riguarda Un territorio Tutto Ma la Toscana Perché anche La Fifi lì In questi giorni È diventata Una cosa devastante Sia per la sicurezza Delle persone Sia per la possibilità Di percorrere La Toscana Cioè Effettivamente Ora sotto gli occhi Tutti Questo gap Infrastrutturale Che ha la Toscana E che per tanti anni Ha avuto L'Empolese Ora finalmente Si dovrebbe inaugurare Questa 429 Che dovrebbe risolvere Una serie di problemi A meno riguarda I collegamenti Tra l'Empolese E la Valdelsa Lì purtroppo Insomma Sono stati fatti Danni enormi Perché una realtà Come Castelfrentino Che conosco E ho vissuto Per tanti anni Effettivamente Si è È stata tagliata fuori Per tanti anni Dallo sviluppo Infrastrutturale Della regione Che ormai Va sempre verso più La Fifi lì Esatto Quindi qui Si sono stati fatti Danni importanti Per fortuna L'impegno dei Fororni È stato premiato Quindi ora a giorni Ci aspettiamo Questa inaugurazione Una volta operata Anche in Ponte Di Granaiolo E quindi diciamo In qualche modo Si è remediato Però effettivamente Questo ritardo Ha fatto danni enormi Non solo a cittadini Ma soprattutto alle imprese Che poi sono dovute Spostare anche per Non avere dei costi Di logistica Impressionanti Esatto In questi giorni Per la Fifi lì Per esempio Si stanno prendendo Dei rimedi Per cercare Di limitare i disagi Però comunque ci sono E comunque Sono evidenti Io ho visto l'impegno Anche di sostegno Ho visto Ho fatto Diverse azioni In consiglio regionale Però obiettivamente Io mi chiedo Se tutto dopo A questo tipo di lavori Venga fatti Di notte Non vedo perché In Italia Non si debba fare Poi non sono un tecnico Ma mi chiedo anche perché Questi antidelli Non possono essere Frammentati Cioè che senso ha Chiudere per chilometri Una superstrada Quando poi Si lavora solo Su un pezzetto Superstrada Cioè Impressione come sempre In questi casi Insomma ci sia a volte Diciamo La supremazia Della tecnica Sulla politica Non è mai Una cosa diciamo Buona In generale Tornando a quel manifesto Un altro dei punti Che voi mettete in evidenza La burocrazia Sì la burocrazia Assolutamente È un problema enorme Per le nostre imprese E purtroppo Questo accanamento Burocratico C'è sempre di più Io Prima si citava L'Empolissima Le manifestazioni Ma queste sono cose Che purtroppo Non si dice mai Perché ormai C'è il mantra Della sicurezza Ma qui noi Si stiamo trattando La sagra della chiocciola Come concetto Di Dolly Stone Cioè ormai La sagra della chiocciola Si ci vuole gli strugati Come concetto Di Dolly Stone Semplicemente perché C'è stato Un evento Purtroppo grave A Torino Due anni fa E ci è scappato in moto E va bene Però non è detto Da quello Debbia per forza Riscendere L'impossibilità Di fare Tutte una serie Di manifestazioni Cioè quando poi Si parla D'acadimento burocratio E anche questo Purtroppo Noi in questo paese Non si sa distinguere Le situazioni oggettive Quindi una norma Calata dall'alto Calata da Roma Poi si applica Distintamente Tutte le realtà E questo E' impossibile Fare le cose Ecco Questo è il problema Ho fatto un esempio Ma ne potrei citare Molte altri E anche le metuborate Sul paese Abbiamo un po' parlato Del centro storico E dei centri storici Per anni abbiamo detto Che il centro storico Di Empoli Stava soffrendo Mi pare Che ci sia stata Un'inversione Di tendenza Un po' Dici tu Per le iniziative Che ci sono state Ecco C'è stato davvero Questo cambio Di mentalità Negli empolesi E adesso Si vive di più Il centro storico Sì Poi è cambiato Io prima citavo Il Natale Effettivamente Il Natale Ha fatto riscoprire Tanti empolesi E il centro storico Della città Effettivamente Le presenze Poi anche Nei mesi a seguire Sono andate Sono andate aumentando Quindi Sicuramente Questo vuol dire Vuol dire che Se la gente Si abitua A venire in centro Poi ci torna Io a volte Ho fatto anche Delle battaglie Con i commercianti Anche l'ultima Assambera Ho fatto Che rappresenta Il sindaco Barnini Perché qui Ancora alcuni commercianti Continuano a pensare Allo scontrino Che viene fatto In più o in meno Con una singola manifestazione Allora questa è la BC Non può essere questo il concetto Il concetto deve essere Noi si fa delle iniziative Per promuovere la tua attività Quello se non ti compra La maglietta Per il giorno lì Però magari poi La vede E ci ritorna Comunque si abitua A venire E ci ritorna Non si può vedere tutto In base al fatturato A chi ha il fatturato Se ti fanno una manifestazione Pubblica E ci si Quello ci guadagna Immediatamente Perché uno il caffè Lo prende per forza Magari la maglietta a 100 euro Ci pensa Per andare a comprare Però è comunque Un meccanismo Di promozione dell'attività Altrimenti L'alternativa È solo il centro commerciale Cioè questo Mi bisogna valutare Quindi non mi bisogna Insistere sugli eventi E sulle manifestazioni Del centro Qualche puntata fa Abbiamo avuto ospite Della stanza di vetro Un tuo collega Un operatore commerciale Di Empoli Eros Condelli Che è stata anche L'anima del Natale Che abbiamo rammentato Più volte Lui ha lanciato Un'idea sul mercato Il ritorno del mercato In centro Cioè spostarlo un'altra volta Dalla zona di Serravalle Nel campo Dello stadio Come era qualche Decennio fa Nel centro storico È fattibile? Allora È una bella idea Che ogni tanto Torna fuori Il problema Che Questo Madanes Si è fatto Le misurazioni Già ai tempi Dei bugli Quindi prima Dei rappelli Dei rappelli Tecnicamente Con queste misure Non è possibile Se poi domani Perché esce fuori La normativa Perché ci sarà Una rottamazione Delle licenze Perché gli ambulanti Dice noi Vabbè Pur di stare in centro Si rinuncia Al furgone Sarà una struttura Più piccola Allora Si può fare tutto Però diciamo Con l'attuale dimensione Che sono 250 posteggi 7x5 l'uno È di fatto Porteresti via Una fetta Di centro storico È possibile Per il discorso Di viabilità È bloccato È bloccato Tutta la città Quindi Non so Poi alla fine Se si farebbe un piacere Anche ai commercianti E agli ambulanti Solamente Va valutato Uno dei ragionamenti Stavati Anche ultimamente Anche ogni sindaco È quello Di magari Portare più iniziative Ambulanti Del mercato Però di qualità In centro C'è l'esempio Il mercato giardini Che ho citato prima Che è un mercato di qualità Con settori Meceologici Già definiti Noi facciamo Due edizioni D'anno L'idea potrebbe essere Quella di incrementare Questo numero di edizioni Quindi alla fine Mentre insieme Il mercato giardini Come in pulissima Potreste avere Almeno un mercato Al mese In centro E questo potrebbe essere Diciamo Un meccanismo Che consente Di avere Il mercato in centro Senza disagi Diciamo Del mercato settimanale Che sarebbero Molto evidenti Ti faccio una domanda Alla quale hai risposto Parzialmente Quindi voi avete Un calendario Di eventi Ricchissimo Non è saturo Ci sono spazi Per nuove idee Nuove iniziative No certo Noi abbiamo presentato Su Empoli Ecco l'ultimo Dio che non ho fatto Insieme a Eroscondelli E Labranini Che citavo prima Abbiamo presentato Un calendario di eventi Molto ricco E nutrito Poi è chiaro Che se intervengono Alcune idee Proposte Suggerimenti Noi siamo sempre disponibili L'importante è che Siano eventi di qualità E che diciamo Possono riuscire A contentare Comercianti E consumatori Della città E che non è sempre facile Quindi bisogna anche Sarà attenti A volte ci può essere Effetto boomerang Perché a volte uno pensa Che un'iniziativa Funzioni E abbia successo Poi magari Non funziona Chiudi la strada Si inalbero Il commerciante Perché la strada è chiusa Oppure l'altro Contesta la qualità Dell'evento Insomma Bisogna Queste cose vanno calibrate Bastanza bene Torniamo al tuo Incarico attuale Nella città di Firenze Cosa porterai Dell'esperienza Maturata Qui sul territorio Nel capoluogo Io sicuramente Porterò La necessità Di collaborare Con i gruppi dirigenti Con i commercianti Perché oggi La struttura sindacale Diciamo Della presentanza Di cui faccio parte io Se non ha questo meccanismo Di rapporto De relazione Con i commercianti Non fa più nulla Oggi Le cose sono molto complicate Sono molte da fare Le iniziative Quindi c'è bisogno Che i commercianti Diano una mano Non solo Diano una mano Ma pensino anche All'iniziativa Da portare avanti Sviluppino progetti Per fortuna C'è stato anche Un ricambio generazionale Quindi ci sono anche Imprenditori giovani Che hanno voglia di fare Che non aspettano Dei proposti Diciamo Che vengono solo Dall'associazione Di categoria Quindi mi porterò Questo bagaglio Diciamo Tennico Umano Di relazioni E cercherò Di fare Diciamo Quello fatto Nell'impresa Valdezza Magari Calibrato Su una realtà Diversa Ma iniziativa Cercherò Di portarla avanti Facendo iniziative Facendo manifestazioni Tutelando le imprese Che lì Poi c'è anche un problema Anche più forte Di rappresentanza Sindacale Nel senso che Ci sono tanti Mercati Da difendere Tanti Pubblici Esercizi Da sostenere C'è un problema Di compatibilità Delle strutture Delle orse Degli ambulanti Con l'assetto monumentale Stato della città Insomma Tutti i problemi Si parla di area unesco Quindi In realtà sono molto differenti Però ecco Cercherò di portare In meglio di quello Messo in campo Nell'impresa Valdezza Sicuramente Cercherò di portare Anche a Firenze Naturalmente Coniocandole Con le esigenze Della città Quindi hai già notato Delle differenze Fra Sì Le differenze sono enormi Perché qui Erano 11 comuni Con 11 sindaci Se quando avevi rapporto Diciamo Con il sindaco E con l'assessore Di fatto Muovevi tutto Lì chiaramente Città Di 380 mila abitanti In cui gli stakeholders Diciamo Sono tanti Se sei uno di quelli E non diciamo Uno dei protagonisti Quindi bisogna Diboccarsi Le maniche Per essere sempre Credibili Per essere sempre Autodevoli Per essere sempre Ascoltati Sicuramente È più difficile lì Che di qua Questo sicuramente Dal punto di vista Diciamo Delle relazioni Però ecco Dattore di Firenze Poi ci ho sempre Lavorato Anche prima Che prima Seguivo gli ambulanti Ficcio la seguità Degli ambulanti Poi ho fatto Le articoli Quindi È una città In cui ho anche studiato Ho conseguito All'altra Quindi L'ho sempre frequentata E quindi insomma È una città Che conosco abbastanza bene Anche i meccanismi E quindi solamente Come dire Io speriamo Me la avevo Invece Che eredità Hai lasciato A chi è arrivato Dopo di te Nel ruolo Che coprivi Nell'Empolese Valdense Io penso Ti avrei lasciato Una bella eredità Gianluca È chiaro Che è chiamato Gianluca Alessio Il mio sostituto È chiamato Un ruolo Difficile Però direi Anche molto Molto Di soddisfazione Lui ha fatto Una bellissima esperienza Come assessore Del commercio È piaciuto molto A commercianti Ecco perché poi Noi abbiamo fatto Anche questa scelta Perché poi Non è sempre facile Insomma Per piacere A commercianti È un ragazzo Che è anche operativo Lui viene Da una famiglia Che faceva Il commercio ambulante Quindi sa fare Anche le manifestazioni E questa cosa importante Perché noi Solo di manifestazioni Ambulanti Ne facciamo 12 Nel processo Valdese Vedete C'è bisogno Che entri uno E lo sa fare subito Se no Può diventare un problema Quindi Gli lascio una bella Verità C'è un insieme Di iniziative Già colorate Già strutturate Che vanno avanti Se seguite Naturalmente Si è parlato Di iniziative Dell'Empolesi Valdese Ma Sono iniziative Importanti Anche A Castelfrentino Accertato A Castelfrentino Per la prima volta Abbiamo portato Mestitalia Da due o tre anni Questi stanno La rifarando Accertato Ci sono le notti In colori In questi giorni C'è stato Spalletti Insomma Ci sono delle iniziative C'è Boccacesca Insomma Che anche la stessa Se seguiva noi Insomma Insieme Iniziative Importanti Che ormai Hanno un bacino D'utenza Regionale Quindi Quei meccanismo Lui va portato avanti Poi naturalmente Lui sarà Speramente in grado Anche di mettersi Cose nuove Nel rapporto Con gli imprenditori Chiudiamo Dando un consiglio A chi ci sta ascoltando Siamo nel periodo In cui le iniziative Ci sono Come i fiori Nei campi Crescono così Velocemente Te la senti Di segnalarne Alcune imperdibili Della nostra zona Ma se vuoi Ti puoi allargare Anche a Firenze Perché tanto Siamo un popolo Che si muove No Alla Firenze In questi giorni C'è stato Pitti Effettivamente Sono state fatte Delle cose Mirabolanti E solamente Verranno riproposte Anche nell'edizione Invernale Stavano sfidate Il filagamo Grazie Signoria E altre cose bellissime Su Empoli Un'iniziativa Che abbiamo Questi giorni Che la sta seguendo Gianluca Insieme a Eros Abbiamo la Notte Bianca Il 6 luglio Insieme a Sardi Che l'anno scorso Fu un grande successo Per i Sardi E per la Notte Bianca Quindi solamente Era una cosa A non perdere Su Castelfrentino Abbiamo un misto Italia Dicevo prima A fine luglio Anche lì ci sono Aperture Dei negozi A fine luglio Direi che queste 3 o 4 iniziative Sono iniziative Più importanti Poi Mi risulta Eros Che adesso Gli ha preso Anche il giorno di fede Ma assolutamente La torna Quindi non vi preoccupate L'ha qualcosa che bolle Anche lui L'ha qualcosa che bolle Sta già lavorando A Natale Anzi Ha già fatto Il progetto del Natale Devo confessare Che quando è venuto qui Aveva un bozzetto Che ovviamente Non mi ha fatto vedere Ma mi ha detto Che aveva qualcosa Perché stava già Insomma Era qualche settimana fa Quindi ci lavora Lui ha ben sviluppato Diciamo il 99% Ormai ce lo siamo guadagnato Il titolo di città del Natale In Toscana Ma ha mantenuto E eventualmente Una delle cose Lui vuole fare Proprio incrementare Questo brand Quindi investire Sui brand E poi città del Natale Solamente lo farà Perfetto Io ti ringrazio Grazie a voi Intanto ti faccio Le congratulazioni Per il nuovo incarico E migliori auguri Perché tu possa ripetere Anzi ancora di più Migliorare Ciò che hai fatto Negli 8 anni Che sei stato Referente Per il commercio Qui nell'Empolese Val d'Elsa Grazie Per noi Grazie Lapo Per noi L'appuntamento Alla prossima puntata